Salita all'avvertenza Cosmopol, poi parleremo anche di cronaca e di spettacoli. Un cordiale saluto ai telespettatori di Lucanet Web TV, nuova edizione del nostro notiziario che parte con una scheda di Rosa Maria Mollica sul contagio da Covid-19 in Basilicata. Sentiamo. Sabato 1 e domenica 2 agosto sono stati processati 277 tamponi, di cui uno risultato positivo al Covid-19. Si tratta di una donna moldava in isolamento a Castronuovo Sant'Andrea. Prima assistito una signora anziana a Gorgoglione, non ha sviluppato sintomi e ora si procederà ai tamponi di tutte le persone entrate in contatto con lei. I residenti in Basilicata attualmente positivi sono sempre due e sono in isolamento domiciliare. Nelle prossime ore si sottoporranno a tampone anche i 100 tunisini, siriani ed egiziani arrivati sabato notte da Porto Empedocle e ospitati all'Old West di Ferrandina. I primi tamponi fatti in Sicilia avevano dato esito negativo. E adesso cambiamo argomento, occupiamoci invece dell'avvertenza Cosmo. Polisi è svolta lunedì 3 agosto, una manifestazione dei dipendenti davanti la regione in via Verrastro. Ebbene, dopo la manifestazione, la Cosmo l'ha comunicato, che procederà alla risoluzione dei contratti di lavoro dei 53 addetti alla vigilanza della sede dell'Aggiunta regionale. Decisione che di fatto sblocca l'avvertenza e consente di procedere al cambio di appalto. Nel pomeriggio di lunedì i lavoratori saranno riassunti da Lati, città di Potenza. Lo riferiscono le fonti sindacali della Fisascat CISL. E adesso cambiamo argomento, invece occupiamoci di cronaca, una scheda di Rosa Maria Mollica. Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Potenza un 38enne di origini nigeriane. Durante i controlli di routine finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, gli agenti, con l'aiuto anche del nucleo cinofili, hanno perquisito un centro di accoglienza del capoluogo lucano. Nel corso delle ricerche, all'interno della stanza occupata dal giovane, gli operatori hanno trovato, in una busta di plastica, 19 involucri in cellofan contenenti in tutto 72 grammi di marijuana, poi sequestrati. Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno arrestato l'uomo sottoponendolo agli arresti domiciliari. L'operazione è stata condotta osservando le prescrizioni per il contenimento del coronavirus. Gli spettacoli in chiusura, Montescaglioso presenta la sua stagione estiva. È stato presentato il cartellone estivo agosto 2020 da Vivere a Montescaglioso. Per il sindaco Zito, in un anno in cui non è stato possibile garantire quelli che sono gli eventi della tradizione, si è cercato perlomeno di organizzare una programmazione culturale e musicale che andasse incontro alle preferenze anche rispetto alle diverse fasce d'età dei montesi. Sarà un agosto ricco di eventi e spettacoli, grazie anche e soprattutto alle associazioni e dalle tante attività commerciali duramente colpite dall'emergenza Covid-19, che ora pian piano cercano di risollevarsi. Il cartellone è stato programmato nel pieno rispetto dell'enorme anticontagio, con eventi all'aperto, andando a riscoprire ed esaltare anche gli angoli più suggestivi della città per farli conoscere alle persone che in questo periodo vi soggiornano e dai cittadini dei paesi limitrofi. Hanno lavorato l'assessore del cartellone estivo anche il vice sindaco Rocco Oliva, l'assessore Francesca Fortunato. Sarà un agosto pieno di belle serate, ha concluso il primo cittadino Angelo Zito, all'insegna della serenità e del seno divertimento. Non ci resta che godercelo insieme. In piazza karaoke giochi e sport per tutti i bambini compresi sono gli appuntamenti cardine del programma estivo di Montescaglioso. Infine tornerà dal 18 al 21 agosto il Luna Park di San Rocco. Buone vacanze a tutti. Bene, era l'ultimo servizio. Io vi ricordo che è tornato in edicola, nell'edicola del Vulture Melfese Alto Braddon, la città, il giornale di Melfi. Non perdete il nuovo numero con interviste e servizi, schede sull'area nord di Basilicata. Era l'ultima notizia. Grazie per la cortesia attenzione. Noi torneremo domani a risentirci. Grazie a tutti.